Un rapporto deficitario da integrare sia con dati aggiornati che con ulteriori indagini ambientali. Lega Ambiente, WWF Abruzzo e la sezione locale del WWF Zona Frentana e Costa Teatina hanno presentato le loro osservazioni al rapporto ambientale della valutazione ambientale strategica relativa alla proposta del nuovo piano regolatore generale del Comune di Ortona. E' particolarmente grave il fatto che manchino riferimenti all'aumento del livello medio del mare che in un territorio costiero inciderà in modo significativo e alle misure di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, evidenzia Filomena Ricci, delegata regionale del WWF. Abbiamo chiesto che il Comune di Ortona abbia una visione più organica rispetto a un sistema ambientale. Ci sono tante emergenze naturalistiche ed ecologiche su quel territorio che vanno messe in rete. Il piano regolatore invece continua a frammentare le connessioni ecologiche e ha poca attenzione verso la presenza, per esempio, di una specie, una per tutte, del Fratino che tra il Foro e Rarielli ha una delle presenze più importanti di tutta la Regione Abruzzo. Chiediamo quindi una visione più moderna, più aggiornata, che risponda anche a quelle che sono le richieste che ci vengono dai piani di ripartenza dell'Europa. Cioè quella del consumo di suolo zero e di un'attenzione alla conservazione della biodiversità. La logica espansionistica che resta la base dello strumento urbanistico in discussione è fortemente anacronistica rispetto al contesto in atto e mette a rischio la capacità dei comuni e dei cittadini di vedersi riconoscere risorse economiche che potrebbero riqualificare il territorio e favorire la ripresa economica incentivando un turismo sostenibile. Sia a livello regionale e in particolare sulla costa dei Trabocchi l'appello del Presidente di Lega Ambiente Abruzzo alla Regione, alla provincia di Chieti e ai comuni del Comprensorio. Cosa deve cambiare? Deve cambiare l'attenzione al sistema territoriale. Non possiamo più mettere in campo modelli ormai superati da anni ma guardare a quello che rappresenta veramente l'innovazione e la sostenibilità sul territorio. Zero consumo di suolo, strumenti di pianificazione sovraordinati e una visione di sviluppo che tenga al centro la sfida europea sulle nuove generazioni. Noi ci giochiamo in cinque anni il futuro dei prossimi trent'anni. Non possiamo immaginare di affrontare questa sfida con vecchi modelli e la cementificazione e il petrolio non ha rappresentato storicamente per la costa dei Trabocchi questo limite.